buongiorno è domenica mattina siamo sulla romea con fishing academy che ha abbracciato il progetto laguna pulita e con i volontari stiamo facendo la raccolta della plastica sulla romea prima di arrivare che oggi a sottomarina come potete vedere c'è un disastro ecologico volontari sono tanti una bella giornata Nino Gobetti organizzatore del progetto Ciao Andrea